musica se voglio farlo come tutti i cristiani no no bisogna farlo con il tuo eh appunto per quella se voglio farlo come tutti i cristiani con via in paia e insilato no questo problema qua è che lo faccio farlo a Matti ahahah no difatti te c'è la prossima volta che ti fa Matti tu sai che qui a beige chiaro se no no qui a marroncissimo più scuro si dà qui a con una tonalità diversa te sai che c'è erba e dopo di che te sai che te che una de paia una de paia ma una e mezza di fieno fresco e non stagionato perchè ne hai tutte e due tipologie che cambia un po' la tonalità tra il giallo e il verdino azzurrino chiaro e insomma te che te basta solo dai un attimo i colori non serve che sia un attimo un attimo e non capisci subito vai Matti vai Matti e con le cagate delle 22 e 5 oh mi descio attenzione 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 nooo guarda col freno ma come attenzione addio powerpull oh che ti chiamata che ti chiamata ma stupendo attacchiamo adesso di nuovo come prima ahhh ahhh mi sono sbagliato adesso mi sei arrivato molto bene perchè il cristiano arriva in modo aggressivo piace molto che zelta fa capire che il comando lui adesso deve venire fuori dei coglioni No perchè risalda di venissima la trincia che lo so sciuco Ahhhh Ho trovato zona buona domani Sassera vado a prendere i gorni Però ho visto i gorni di rame Piace molto Mi finio di comprare peni di rame Ehm Ho trovato zona buona domani Sassera vado a prendere i gorni Ora ho visto i gorni di rame Mi finio di comprare peni di rame Sampir Ci sono gorni di rame C'è la macchina di merda C'è la Vox Water Ufff Sì Ho un ferro vecchio Ma non serve caso Quella trattora Ho un ferro vecchio Ho però un ferro rastaurato Molto bello allora quello si può venire via con noi pensa che ce l'ha anche la rata da froscio ce l'ha rosa quello può venire via quello è nuovo quello è nuovo ho fatto due rata neanche vale Marco noi siamo pronti cosa interessa tu guarda fuori casa tua che non veniamo a rubare adesso preparo la miniganda guarda qui sta qui sta tre quattro avanti dove avrio e una metto solo il quarto perchè guarda l'altra ce l'hai due case dietro? come cosa va? cosa c'è? questo qua si ribalta dietro la schiena non lo so salutiamo amici della romania ciao amici ciao amici ciao amici ciao amici amici che dopo dopo la bici che va andare via beh ora sai cosa faccio tengo ascesa così spreco le qua guarda che sprecone te le metto in conto perché fai cadu rumeno? manchini tv li metto comunque in fronte pozzo Femmo gli operai del biogas Femmo No, no, non per voi io mi amico No, no, no Samir e Aziz No, no, no Posso dire una cosa? Preso No, sì, i negri qui che fanno i cani al biogas Sì Esatto E' proprio reale Resta attento a Samir E Aziz Portiamo il curriculum e dopo parliamo Penso che i tuoi finestrini oggi saranno molto profumati Oscar, forca Ottimo Dato Ragazzi, vada che queste cose qua mi succede Il minimo una volta a settimana Vabbè, adesso è normale, dai che hai fatto l'abitudine Eh, infatti sentivo un po' Un po' di rabbia Eh, infatti, se è vero Io che veniva da... Dico, sentivo che si può tirare una boia Ma caso che qui Sì, no, ma secondo me sentivo una boia in mezzo Cioè, era la tipica giornata di lavoro Ragazzi Ah beh dai, metto a tutti E non dico, questo è cagadoso Ciao, ciao Eh, adesso non stai a fare incubi però, che si hanno la caviera su questo tipo di persona Oh Ti campi le parole, cosa avete da fare? Oh ma se sai da una dire cosa, eh Oh, ti... Oh, ti vuoi dire, che tu hai detto? Asseminare la soglia Eh, l'ano è un'altra cosa Se... se non... se non glielo mette glielo appoggia Se non è nero è ancora più nero Oh, è una regolata, ragazzo Cos'è questa balla non è supportata? Eh... le... le... le mati... le mati che ha proprio una bella Non commento Oh mio dio Ecco, vale se hai inciucato bene Ahi vale Sta morendo Perché Nico sei molto felice? No, io gli ho scritto un commento con amici Anche amici c'era mio Gli buttiamo eh... eh... l'extreme da sola ai... i digestori Ah si, a posto Potremmo anche registrare Cristian che bastemmo Tutte le lingue di sto bordo anche Oh se me è quello che dice Cristian ti metti pochi dei bimba a caso Eh... potremmo anche da trovare un animale e anche potremmo... Ah si Ah si Esatto Si, l'ho sentito Ma non so perchè, come si chiama Moia di sbappare Paurico, tu sai come si chiama? Cosa? Esatto Eh, per strumentare il tempo Penso che hai fatto scappare... cobra Un pochito Ha fatto fuggire un cobra reale Ma lei che mi sa che vuoi dire che guarda che ce l'ho messo su quelli personaggi E non... Esatto, si E' questa not- Una enfasi Dopo, dopo cobra le hanca Come si dice, le hanca nuove per via da fare personaggi Si Quindi non ho il mio istinto di dire che subito qualcosa Ma magari se era qualcuno un altro Magari riusci a dare un po' di testa Ma... ovviamente no dopo Ma non ho così Ma non ho il mio Ma senti il mio storio Stai la caga che ho tutto fuori da Vieni da murando e pulito Esatto Ma vuoi che i murando e farò sempre Quindi... Eh, si, ti fai su di adesso Vieni controverso, devo avere la linea lasciata Taglia tutto Tutto? Perché si è sparito mappa Mappa Che altro? Ah, che mi taglia tutto No, roba che taglia alberi Non te che mai lì che taglia tutto Non è neanche più ossigeno Rettifico Eh... taglia... taglia solamente Che schifo, edo Dica qualcosa Rettifichi a spada Fate buoni Suoi miei panettoni Rettifico quello che ho detto Eh... taglia solamente quella zona Allora... Già disegnata nelle precedenti volte Eh, va bene Dica all'Asiatica Dica... Allora, te che dici all'Asiatica che si attegna il coronavirus a casa sua Ciao, ciao Europa Allora, qua è Asiatica Adesso è Adesso è Adesso è Come qua è Asiatica, Nico? Dica via Non riesco a andare da Ma è anche... Ma è anche... Ma è anche una macronina figa Con un tocco di Asiatica Una pappucetta che aveva Te vedessi che roba Ti si persi tutto Amico Ah, di... Mico, veramente Devi pensare alla auto Come è nico che ti si persi... No, ma dai, non mi è venuta un'Asiatica Ehi, ma... Domanda di un'Asiatica Che c'era qua Ma no, a giocare Ma no, a giocare E' avviata qua a fare una giacqua Perché... Sua amica De... 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 De Pollastri qua Amorosa del Polo, no? No, mia... No, mia... No, un'altra... Nooo... Nooo... Ma ora ha battato la botta Sincero, dove ho? Perché vedo il palco fermo qua il biogas? E se è una cappata come una mamma Ah, non la dove si è cappata Adesso ho capito del cazzo che è il mio Non la cadavisini Ma la magna in Asiatica Me faria comodo Ma son pieno dei moragli in stalla Ahahahah Io invece ho paura dell'Asiatica Non le fa piace a punta 10 punta e più... Beh, ci si... Silencio, silencio E sentiamo anche cosa ti ha dire Io ho paura dell'Asiatica Perché? Io ho paura carregata del cazzo Eeeh ma cosa dico? Eeeh Qui ha la solita di Vladimir Luxuria Eeeh Marco, non ti porto così la spazzo una botte Giavo il canto Tu sei il cuore di mare del polto e che posso fare? Beh, se io ero viola andavo in tega da su Ehi mano! E la bocca, e la pepega, e la tega, e l'anno, e il buco, e le rette, e la bocca Oh, io ero biuro Oh! Questa vede se alza E biuro, ah adesso l'ho chiuso biuro No, no, ma l'hai girata Guarda che la giro Sta fermo che se sarà balda e non mi vuoi registrar Dai, torna a casa di tua azienda Ah, no, non fa bene a trovare, non andate a fermo Lo deixo casa da tua azienda se deixe a capiscia a casa Com'è? 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 Questa piucina? Inoltre Questa nuova Com'è? Con'è? Campa cent'anni Sì, se ti fai quasi tu il tuo anno, campa cent'anni Esatto, e invece mi stascio che se no vado a prendere i gornati Eh, la burra ha toccata Tu essere pieno di soldi con Youtube, quindi non mettere roba scrausa, come dici tu Eh, se ne portiamo via il studio eh Sì, se no computer Portiamo via il computer adesso Sì, c'è la di acqua dentro ma sbottiamo d'acqua Avemo i leoni di Adriano Adesso c'è la leona, sado là Sì, perché se c'è il frigo in cabina, so come riempio Oh ma, eh eh Ok, tu hai visto che hai chiamato un cavallo in PX serio Sì, 381, no, 380 cavalli adesso, quindi 379 Sì, non c'è un cavallo, dovrei essere 13 cavalli Ma è meglio ancora? Eeeh, fa una scrim Fa, fa, cacopartina puttata ignorante Vabbè, dai, eh Sì, dai Vabbè, dai, via lì, 3,2 Eh, guarda Marco in sfondo Esatto Guarda che fa sulla cacopartina fatta meglio con Marco Alla dire che giro come un deficiente Cazzo, sono l'affatto Fatto No, ho fatto un meme. Tipo quando lo noterai sarà troppo tardi Eheheheheh Ok Oh mio mio Oh Guarda che ho letto cavallo Tanto Ahhhh Non fare una cimice Vai Marco E' un po' di tante! 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 Tutto il po' di tante! Tutto il po' di tante! Fino a che hai il pulsante che ti strucchi l'acqua! E' un po' di tante! E' un po' di tante! Ma se... Se ti ti vieni, con il tuo spandileame Carico delleame muoio E ti acerri tutto con il gardano a 4000 giri E ti tagli e svento Non ti fai sti ammerdata! Non ti affetti! Oggi impariamo la fisica della merda! No, quello la! Lui non si cuccia! E ora, lui, ragazzi, cacca spruzzo! E non... E non si... Ma se cacca spruzzo e non si cuccia! Ma se non si spruzzo E tutto il liquido Se è un spruzzo mezzo solido, mezzo liquido, no? E allora, il fapetto E' un po' di tutto! E' un po' di tutto! E' un po' di tutto! Capisco che uno ha il suo sgomento Ma... E' un po' di tutto! 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 E' un articolo Ma bello E' un articolo E' un articolo Tre zoom expresses O per l'arte moderni. Allora, un'altra roba, un'altra roba. Cobra. Dimmi. Cristian mi ha chiesto se ti stai bene. Anche a me. Eventualmente mi ha detto che puoi pagarti in assoluta da psicologo nel caso. Mi ha chiesto. Volevamo accertarsi che stai psicologicamente bene. Insomma che non hai già fatto il lascio. Se forse stai in realtà avrei reagito in modo diverso. Scampà via. Cagavolo su diretto. No, no, no. La pompa. Distrutto. Comunque mi ha chiesto se potevi passarli magari i file dove c'era proprio la sua parte in cui c'è la scena. E fa ascoltarla e è venuto fuori bene. Ma se no purtroppo non ce l'ho domanda a Marco. Ma se non possiamo immaginare a me Marco. Tipo sei quando ti ha finito la puntata no? Che lui ti ha detto. Madonna che lagata che io ti tirò stasera. E ti ha detto. Eh ma. Aspetta che dica boh. E lui magari ti dice. Eh scusa. No, no, no. Ma parla pure se è tutto. Tranquillo. No, no. Vola mia. Vola mia. Scusa Cristian. Ah. 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 Ah no. Ah, non lo volevo scrivere però. Che troia. Possiamo osservare gente molto acculturata nelle parole Ovviamente a te non censuri niente vero? Non è una bestemmia Ora censuro Ora mi tocca farlo Perché hai beccato di stirare in terra? Ancora l'ombasi Help me please Attenzione L'amore Che cazzo che vieni insieme a roba? Siete l'epatici Comunque sto mero ieri ho portato via corna per l'amore È solo botta di culo Sì ma Edo stamattina si sveglia con una corna in culo Cobra, vai a testare il tuo carro No, 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 no 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 Vale, se va così otteniamo su E con questo abbiamo concluso Grazie dell'attenzione E arrivederci Bella raga